Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale dove oggi vedremo insieme questo campanello a batteria e quindi completamente privo di cavi che senza costi aggiuntivi per abbonamenti vari permette di monitorare anche visivamente la porta d'ingresso rispondendo al citofono da ovunque, sia dentro che fuori casa. Risolvendo così molti problemi, come riesce a fare del resto anche l'applicativo proposto da Tenorshar, sposo di questo video, che permette, impiegando particolari algoritmi intelligenti in grado di confrontare sia il nome che il contenuto, di individuare e rimuovere facilmente i file duplicati con una scansione rapida e precisa, indipendentemente dal quantitativo di file archiviati, su qualsiasi supporto non solo scheda SD, periferiche esterne e dischi, ma anche da NAS e Google Drive in ambiente sia Windows che Mac, in pochi secondi e con un'accuratezza pressoché totale, migliorando così l'archiviazione, la conservazione e la ricerca di qualunque tipo di documenti, principalmente foto e video, liberando spazio di archiviazione e quindi incrementando le prestazioni del computer. Software che, come moltissimi altri prodotti di Tenorshar, prima di acquistarlo, anche se con funzioni limitate ovviamente, si può testare gratuitamente per essere sicuri che si è adatto a svolgere i compiti che vogliamo affidarli. Per maggiori informazioni ovviamente trovate tutti link qui sotto in descrizione e detto questo però come sempre prima di iniziare vi ricordo che se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo, ovviamente, vi ringrazio di cuore in anticipo. E per poterlo fare nel migliore dei modi, sia di giorno che di notte, trasmettendo immagini in diretta oppure registrandole su di una schedina microSD supportata fino a 128GB, usano una telecamera con risoluzione di 1080p e un angolo di visione di ben 166 gradi che permette un'inquadratura molto ampia della zona antistante il campanello, a cui si abbinano anche i led ad infrarosso per la visione notturna in bianco e nero. E con l'applicazione disponibile sia per Android che per iOS è possibile ricevere sullo smartphone delle notifiche in tempo reale in due situazioni, quando qualcuno ovviamente preme il pulsante per annunciarsi, oppure anche con il solo passaggio nel campo di azione del sensore di movimento, di tipo Peer, che sfruttando le differenze di temperatura può rilevare una persona fino a 10 metri di distanza. Visitatore con cui volendo si può anche interagire dall'applicazione dedicata, parlando e ascoltando per mezzo del microfono e dell'altoparlante integrati. E ovviamente essendo destinato ad essere usato all'aperto è anche certificato IP66 per resistere agli agenti atmosferici come polvere e schizzi d'acqua, anche se il mio consiglio come sempre è quello di ripararlo il meglio possibile per allungarne la vita utile. Ed infine come abbiamo già detto essendo senza fili per poter funzionare integra anche una batteria agli ioni di litio da 4800 mAh che come vedremo volendo si può ricaricare anche senza rimuovere il corpo del campanello. E completa di tutto è anche la dotazione di accessori ad iniziare dal manuale di istruzioni anche in italiano che entra nel dettaglio delle impostazioni e funzioni più importanti consentendo anche a chi non è molto pratico di queste cose di iniziare ad usarlo senza troppe complicazioni. Poi sempre in confezione ci sono anche due adesivi per segnalare il monitoraggio questo perché come vedremo il campanello su cui però torneremo tra qualche secondo possiede quasi se non tutte le funzioni di una telecamera di sorveglianza. Campanello cui è possibile abbinare il ricevitore per sentire il suono senza bisogno dello smartphone che essendo in questo caso alimentato da tre batterie AAA anche se presenti a corredo offre rispetto ai suoi colleghi che hanno bisogno di una presa elettrica un'ottima versatilità. Ed infine per quanto riguarda l'esperienza di unboxing chiudiamo con questo sacchettino con la minuteria composta da un cavo usb regolare micro usb che potremmo usare per ricaricare la batteria, lo spillo per staccare il corpo dalla base, vite e tasselli per il montaggio a parete che volendo senza forare si può fare anche se in modo meno sicuro ovviamente usando questi tre adesivi che concludono anche la dotazione di accessori. E anche la qualità costruttiva pur essendo tutta plastica è comunque buona e sulla parte frontale oltre alla lente e al pulsante per suonare ci sono anche i due sensori PIR per rilevare il movimento e di luminosità per accendere i led ad infrarosso. Sul fianco sinistro invece sotto questa linguetta in silicone ci sono sia il pulsantino per riportare il campanello all'impostazione di fabbrica sia la porta micro usb per ricaricare la batteria. Sul fondo l'altoparlante e il forellino dove inserire lo spillo che abbiamo visto qualche secondo fa per separare il corpo dalla base dove ci sono i due fori per un eventuale montaggio a parete con viti e tasselli. Il che permette anche di accedere allo slot per la schedina micro sd che si trova protetta anch'essa da una linguetta in silicone a fianco della porta micro usb con cui abbiamo finito di analizzare la struttura del campanello per cui possiamo passare al ricevitore anch'esso realizzato in plastica di buona qualità dove sul davanti oltre ad un indicatore a led c'è anche l'altoparlante il cui volume si può regolare su quattro livelli di intensità con il tasto centrale che si trova qui a lato affiancato a destra dal pulsante per l'abbinamento e a sinistra da quello per scegliere una tra le quattro suonerie disponibili. Per finire poi con il retro dove c'è anche l'alloggiamento per le tre batterie mini stilo. Ricevitore che prima di continuare dovremo accoppiare al campanello seguendo le indicazioni del manuale di istruzioni per cui dopo aver inserito le tre mini stilo dovremo premere il pulsante impostazioni in modo che l'indicatore a led inizia a lampeggiare in colorazione rossa. Dopodiché dovremo premere il pulsante per suonare sul campanello così che i due dispositivi possano parlarsi ed accoppiarsi automaticamente condizione che potremo verificare anche visivamente dall'indicatore a led che comincerà a lampeggiare in blu. Essendo completamente privo di cavi l'installazione è semplicissima infatti dopo aver fissato la base con le viti oppure con gli adesivi ad un'altezza di almeno 120 centimetri da terra basterà inserire il corpo fino a sentire il clic di conferma. E lo stesso discorso vale anche per la prima configurazione gestita dall'applicazione Cloud Edge disponibile sia per Android che per iOS che viene regolarmente aggiornata per eliminare eventuali bug. Per cui dopo aver creato un account e raggiunto la schermata principale per associare il nuovo campanello dovremo cliccare sul simbolo del più che si trova qui in alto a destra. Poi nella schermata successiva sulla colonna di sinistra dovremo scegliere la seconda opzione campanello intelligente e poi l'unica icona disponibile. Dopodiché dovremo seguire la procedura guidata dove nel primo passo dovremo accendere il campanello premendo il pulsante per suonare. Poi a seguire nel caso ce ne fosse bisogno dovremo riportarlo all'impostazione di fabbrica nel mio caso però non devo farlo visto che l'indicatore a led è già lampeggiante in colorazione rossa. Nel prossimo passo dovremo scegliere la rete a 2,4 GHz a cui vogliamo connetterlo e inserire la password. Dati che comunque dovremo poi riconfermare anche nel punto successivo. Dopodiché dovremo far leggere al campanello il codice QR che nel frattempo sarà stato creato sullo smartphone. Poi dovremo attendere qualche seconda fino a quando il campanello non sarà stato trovato e registrato sul servizio di cloud ed infine anche inizializzato. Dopodiché potremo seguire questa mini guida dedicata all'installazione con alcuni consigli utili sul corretto posizionamento per ridurre al minimo i falsi positivi. Ed infine potremo anche assegnargli un nome e inserirlo in un ambiente della nostra abitazione che avremo creato durante la prima configurazione dell'applicazione. Anche in questo caso l'applicazione si divide in tre sezioni. Nella prima c'è l'elenco delle telecamere associate all'account che volendo si possono consultare anche in base all'ambiente dell'abitazione nel quale le abbiamo inserite. La seconda invece è riservata alle notifiche che sono suddivise in base al modello di telecamera e si possono consultare per giorno e per ora ed infine nella terza scheda oltre all'album dove sono salvate le registrazioni locale si possono regolare anche alcune altre opzioni comuni a tutte le telecamere. Ad ogni modo tornando alla schermata principale dove ci sono le miniature delle telecamere e poi cliccando qui in basso a destra sulla rutellina dentata si aprirà questo menu semplificato da dove potremo abilitare oppure disabilitare le notifiche, condividere la telecamera, consultare le registrazioni video, accedere al menu impostazioni ed infine anche scorrere le soluzioni alle problematiche più comuni. Mentre scegliendo quest'altra opzione potremo invece consultare le registrazioni salvate sia sul servizio di cloud sia sulla schedina micro sd. Infine scegliendo l'icona centrale accederemo alla vista live da dove è possibile vedere in diretta quanto inquadrato dalla telecamera ottenendo anche al contempo delle informazioni sulla batteria, sulla portata del segnale wifi e sui dati consumati dallo streaming. Inoltre da qui sopra oltre che mettere la visione a schermo intero si può anche modificare la qualità del flusso video scegliendo tra alta e bassa definizione ed infine da qui a sinistra disabilitare il microfono della telecamera. Mentre da qui sotto si possono sia registrare un video sia scattare una fotografia che saranno entrambi naturalmente salvati in locale nella memoria dello smartphone. Attivare il microfono che consente di parlare con chi si trova nel raggio di azione della telecamera. Invece l'opzione suono originale potrebbe tornare utile quando al campanello dovesse rispondere un bambino che da qui può modificare la propria voce simulando quella di un adulto. Ed infine con le ultime tre opzioni si può attivare la rilevazione del movimento la sirena e consultare l'album delle registrazioni salvate sullo smartphone. Mentre con le restanti due schede potremo accedere alle registrazioni salvate rispettivamente in locale sulla schedina micro sd oppure online sul servizio di cloud. Per entrare nelle impostazioni invece dovremo come sempre cliccare in alto a destra sulla rotellina dentata di modo che comparirà questo menu da dove potremo ottenere alcune informazioni sulla telecamera. gestire velocemente la ricezione delle notifiche visualizzare la guida all'installazione condividerla vedere anche la rete wifi a cui è collegata e modificare la planimetria dell'abitazione cambiando anche il locale dove è inserita la telecamera stessa. Poi continuando potremo ancora scegliere il formato per l'ora e modificare alcuni parametri relativi all'immagine per cui potremo scegliere la frequenza della corrente elettrica per l'illuminazione artificiale così da evitare fastidiosi sfarfallì che per l'Europa come sappiamo deve essere impostata sui 50 Hz. Ed infine potremo anche gestire la visione notturna che può essere automatica per cui sarà la telecamera a decidere quando passare da quella normale a quella di infrarosso oppure può essere forzata manualmente mantenendola così sempre accesa oppure sempre spenta. Mentre tornando al menu principale con la prossima voce potremo gestire le impostazioni audio relative alle registrazioni sulla schedina micro sd gestendo il microfono l'altoparlante e il suo volume. Poi con la prossima opzione invece potremo decidere se quando qualcuno suona il campanello deve squillare anche l'unità interna che agendo su questo switch volendo si può disabilitare in modo da non essere disturbati ad esempio durante la notte. Mentre scegliendo la prossima voce si può registrare un messaggio vocale che poi potremo usare per rispondere a chi sta suonando quando ci troviamo in qualche posto dove non possiamo farlo di persona. Le prossime tre voci invece consentono di agire sulla rilevazione delle anomalie che naturalmente saranno notificate per mezzo dell'applicazione ed in particolare dopo averle attivate potremo regolare la sensibilità del rilevamento scegliendo anche la modalità di lavoro della telecamera che naturalmente impatterà sulla durata della batteria per cui ci sono due opzioni predefinite la prima risparmio energetico dove la lunghezza delle registrazioni non supera i 10 secondi e il rilevamento delle persone basato sull'intelligenza artificiale è attivo di default. A seguire c'è anche la modalità performante che permette di registrare video più lunghi mantenendo quindi acceso per più tempo il campanello il che ne ridurrà ovviamente l'autonomia. Modalità di lavoro che volendo si può anche personalizzare limitando il rilevamento esclusivamente alle forme umane e distinguendo tra il giorno e la notte scegliendo anche la durata delle registrazioni che come vedete può variare tra 10 e 30 secondi. Rilevazioni che naturalmente possono riguardare l'intero arco della giornata oppure possono essere pianificate così da escludere particolari orari come possono essere ad esempio quelli in cui normalmente ci troviamo in casa escludendo anche una porzione dell'inquadratura così da eliminare quelle zone dove è più probabile la rilevazione di falsi positivi che si originano da movimenti insignificanti come possono essere ad esempio le fronde di un albero da cui deriva naturalmente l'invio di notifiche inutili. Infine tornando ancora una volta al menu principale con la prossima opzione potremo consultare alcune informazioni sulla batteria che comprendono anche la carica residua. Mentre con la prossima voce potremo verificare la capacità totale e rimanente della schedina micro sd che in caso di malfunzionamenti si può anche formatare. Per concludere con le ultime tre opzioni che consentono la prima di attivare il servizio di cloud che dopo 7 giorni di prova gratuiti naturalmente diventa pagamento, di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti del firmware, di riavviare ed eliminare il campanello dall'account il che conclude le funzionalità dell'applicazione per cui ora prima delle conclusioni è arrivato come sempre il momento di verificare il funzionamento con alcuni test sul campo iniziando proprio dalle notifiche che ormai come d'abitudine anche in questo caso arrivano quasi istantaneamente. Proseguiamo ora con un test audio di video diurno dove mi spingerò fino a più o meno 10 metri di distanza. Continuiamo verificando la visione notturna in bianco e nero e quindi con i led a vita di un'accusa. Parolustra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.